Ecco, non ancora ci vediamo niente Sento la volante ma non vedo Ok Siamo andando pianissimo, che è successo? Arrivano! Rosso, rosso, rosso! Rosso, rosso, rosso! Attaccate, attaccate! Attaccate, attaccate! No 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 no, attaccate, attaccate! Madonna, madonna, madonna mia! Attaccate! Dai sì! Dai! Dai sì! Dai sì! Daiee! Raii! 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 No! che è successo? che se ci è? i veri non arriva? No, 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 no. No! 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 No!